Buongiorno signori, io sono Mr. Lul e oggi parliamo di scomparsa del PIN IMSS e permessi disabili validi in tutta Italia. Primo, l'IMS a partire dal 1 di ottobre 2020 non rilascerà più agli utenti il PIN per l'accesso ai servizi telematici. L'istituto ha infatti deciso di transitare definitivamente al sistema di accreditamento con Speed. Lo Speed infatti è uno strumento più flessibile, diffuso e aperto che consente agli utenti di interagire con l'intero sistema pubblico. Il PIN dispositivo, per chi ne è già in possesso, sarà mantenuto attivo per un breve periodo transitorio per poi andare definitivamente a morire, mentre continuerà ad essere utilizzato da tutti quegli utenti che non possono avere accesso alle credenziali Speed come i minori di 18 anni o i soggetti extracomunitari. Secondo, le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso per accedere alle ZTL, zona traffico limitato, in tutta Italia appunto. Questa è una delle novità introdotte dal DL Semplificazioni, resa possibile grazie ad una piattaforma informatica unica che consentirà di verificare le targhe associate ai permessi di circolazione. Detto questo, io come al solito vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.